Ciao a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con la nostra coperta del condominio. Oggi è un appuntamento un pochino diverso dal solito, perché prima di proseguire con la realizzazione di altre piastrelle abbiamo bisogno di andare ad unire il nostro lavoro per stabilire se abbiamo bisogno di realizzare altre piastrelle oppure se siamo arrivate. Quindi quadernino, penna, vi ho fatto una foto che vi ho allegato all'inizio del video dove vi ho fatto vedere che sto attaccando le piastrelle, adesso vi faccio uno schemino così vi spiego cosa dovete andare a fare se volete cominciare ad unirle anche voi e vi faccio vedere come le uniamo. Vi farò anche vedere dove ci avanzano degli spazi, se ci dovessero avanzare, come andare a riempire facendo delle piastrelline più piccole e potendo adattare le piastrelline alle varie misure, ai vari spazi che ci resteranno. Se voi guardate nella foto, io nella parte superiore dove ho già attaccato delle piastrelle, quattro piastrelle da 25 cm, ho uno spazio un pochino più piccolo sulla mia sinistra e uno spazio un pochino più grosso sulla mia destra. Andremo a riempire quei due spazi, dopodiché proseguirete da sole giostrandovi a vostro modo. Ora vi serve una penna e vi faccio lo schemino. Il primo passaggio che noi andremo a realizzare sarà quello di unire le quattro piastrellone da 50 cm che saranno il nostro centro. Noi abbiamo deciso di lavorare così. Ora io vi faccio vedere quello che io nella mia coperta sono andata a realizzare. Ognuno di voi però poi può decidere di spostare le quattro piastrelle ai lati, può farne una sola. Ad esempio nel gruppo c'è stato anche chi ha fatto un'unica piastrella da un metro con questo disegno piuttosto che quattro da 50. Benissimo. Ovviamente non è andato a cucire le quattro insieme ma è passata direttamente a lavorare sulle maglie del contorno. Ok. Allora io vado ad unire le prime quattro che sono quelle da 50, quindi 50, 50, 50 e 50. Una volta unite queste quattro vado ad attaccare le mie piastrelle sopra. Andando ad unire ed avendo usato filati diversi è possibile che queste due piastrelle non siano più da 50 cm l'una. La mia mi sembra che è diventata quasi un 30 cm per piastarla perché si è proprio lasciata andare. Poi ci sono i due margini a maglie basse, quindi figurarsi ha preso ancora un pochino più di spazio. Dopo aver cucito queste quattro, quindi una, due, tre e quattro, sono andata a cucirne altre quattro sopra e sono partita dal centro perché volevo farvi vedere gli spazi. Quindi io ne ho cucite quattro sopra, di qua mi ha avanzato uno spazietto, poi ne ho cucite altri due di qua e di qua mi ha avanzato quest'altro spazietto. Quindi una, due, tre e quattro. Se io fossi partita da un lato probabilmente sarei riuscita a cucirne cinque di quelle da 25, ma io volevo farvi vedere se vi risultano degli spazi come andare a riempirli e quindi ho gestrato la mia lavorazione in questo modo. Quindi adesso io ho già cucito le mie quattro sopra e ho gli spazi. Ora nel video vi faccio vedere come andare a cucire una delle quattro piastrelle. Lo stesso metodo per questa piastrella vale anche per tutte le altre piastrelle, quindi non cambia niente. Una volta che ne avete vista una, va bene per tutte. Dopodiché vi faccio vedere come andare a riempire gli spazietti se vi avanzano. Allora, le piastrelle per andare a unire io ho lavorato un giro su tutte le piastrelle a maglia bassa. Quindi un giro a maglia bassa sulla piastrella 1, un giro a maglia bassa sulla piastrella 2. Dopodiché sono andata a cucire la piastrella 1 con la piastrella 2 facendo un giro di maglie basse sopra che andasse a prendere sia una parte che l'altra delle due piastrelle. Ho deciso di farla sul diritto del lavoro perché mi piace l'effetto rilievo. Questo non toglie che volendo la stessa cucitura. Potete andare a farla lavorando sul rovescio e in quel modo davanti avrete un lavoro liscio mentre la cucitura sarà dietro. Io volevo proprio l'effetto rilievo quindi l'ho lavorato sul diritto. Le mie bordure io ho deciso di farle tutte in nero per questo che mi sono persa un po' nella spiegazione verbale del lavoro perché vi faccio vedere con tutta la buona volontà però non credo che riuscirete a vedere un granché perché comunque il mio filato è nero. Ora vado a bordare con un giro di maglie basse tutta la mia piastrella e questo lo faremo su tutte le piastrelle sia quelle da 50 che quelle da 25. Vi faccio solo vedere l'avvio ma perché voglio farvi vedere l'angolo dopodiché ognuno borda a modo suo. Quindi eccomi qua vado a fermare il mio filo. No che stupida. Allora ma sì ve lo faccio vedere così così almeno vi è chiaro e riuscite a vederlo bene. Io vado a lavorare le mie maglie basse dentro ogni maglia bassa sottostante. Quando entro nell'angolo noi abbiamo lavorato fino adesso due maglie alte, due o tre catenelle, poi due maglie alte per fare il nostro angolo. Questo in tutte le piastrelle. Adesso non andremo più a fare le catenelle, andremo a fare un effetto riempimento. Quindi arrivata nell'angolo, eccolo qua così ce l'avete tutto, io entro nel mio angolo e vado a lavorare semplicemente 4, 2, 3 e 4 maglie basse. Dopodiché riprendo a lavorare le mie maglie basse sulle mie maglie alte normalmente. Vedete che vado a fare un effetto riempimento e non vado a creare catenelle. Vado avanti così per tutto il giro e poi ci vediamo per cucirle. Una volta abbordato tutta la mia piastrella ora vado ad unirla a quella che io ho già attaccato ma il procedimento è uguale per tutte le piastrelle. Quindi vista una, viste tutte. Allora io prendo il mio filo, entro nell'angolo nella terza maglia bassa. Quindi 1, 2, entro nella terza. Entro nella terza anche di quella dietro, quindi nell'altra e vado a fermare il mio filo. Quindi entro col filo e vado a realizzare un udino. Ora io lavoro col nero quindi vedere capisco che diventa abbastanza difficile ma la lavorazione è talmente semplice che è fattibile anche se io sto lavorando col nero. Quindi rientrate nella stessa maglia e fate una catenella. Tutte le maglie successive andate a lavorarle insieme facendo una maglia bassa però prendendo la costina interna del davanti, quindi solo una quella interna e la costina interna della lavorazione dietro, così. Passate il filo e lavorate la vostra maglia bassa. Di nuovo costina davanti, costina anche di quella della parte dietro e poi si chiude. Di nuovo costina interna del davanti, costina interna del di dietro e poi si chiude con una maglia bassa. In questo modo. Ora procedo per tutta la lunghezza, poi arrivata all'angolo vi faccio vedere come andare a fare l'angolo se dovete svoltare quando dovete unire più pezzi. Ok, arrivata la fine io vado a lavorare le ultime due maglie alte che sono quelle del mio angolo sulla piastrella parallela, quindi sempre quella che stiamo cucendo. Quindi entro, lavoro una, e poi due e sono a metà del mio angolo. A questo punto quando devo curvare, quindi devo andare a cucire poi le altre piastrelle, giro il lavoro in questo modo, mi ritrovo, ecco qua, la piastrella da cucire e io sono attaccata a quella che abbiamo appena cucito. Quindi prendo la piastrella che devo cucire, entro normalmente nella mia maglia bassa, sì, eccola qua, sulla piastrella che sto già cucendo, poi entro nella seconda maglia bassa della piastrella che ho dietro, eccola qui, e vado ad unire. E poi faccio la stessa cosa anche con la maglia successiva, ecco qui, in questo modo, in questo modo, sto cercando il modo per farvelo vedere, eccola qua, in questo modo abbiamo chiuso il nostro angolo e adesso possiamo proseguire a cucire il nostro laterale della nostra piastrella normalmente e andiamo avanti fino alla fine della nostra piastrella, poi stacchiamo il filo. Stessa cosa andremo a fare per le piastrelle da 25 centimetri, quindi andremo a cucire intorno alle nostre piastrelle grandi le piastrelle da 25 centimetri con lo stesso metodo, quindi questo non ve lo faccio vedere perché è esattamente lo stesso metodo. Adesso finisco di cucire la mia piastrella e poi vi faccio vedere se vi dovessero avanzare degli spazi piccoli come il mio, dove non si può inserire nessuna piastrella di quelle che abbiamo realizzato, come andare a riempire questo spazio con la misura che ci serve. Adesso l'ultima cosa che vi faccio vedere è come riempire gli spazi che abbiamo. Io ad esempio andrò a riempire questo spazio, vedete che ho la piastrella da 25, mi avanza questo poco spazio, qui un'altra piastrella io non potrei metterla, sono 10 centimetri, quindi andrò a costruire una piastrellina, volendo anche due piastrelline da 10 centimetri, due piastrelline da 10 centimetri e poi andrò ad aggiungere la rimanenza per andare a riempire. Vediamo se ne faccio una o ne facciamo due, vediamo. Allora, tanto io voglio farvi solo capire come potete andare a rimediare e a riempire questi spazi. Come al solito 5 catenelle, 3, 4, 5 e andrò a lavorare con le piastrelline granny che sono le piastrelle più semplici. 1, 2, 3 catenelle una volta chiuso il cerchio e vado a lavorare una piastrellina piccola granny, quindi 3 maglie alte. Ora non sto ad inlungarmi perché tanto l'abbiamo già fatta, dovremmo sapere tutti come farla. 3 catenelle, di nuovo nel cerchio 3 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 3 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, di nuovo per l'ultima volta 3 maglie alte nel cerchietto in modo da avere i nostri 4 petali. Per finire 3 catenelle e vado a chiudermi con una maglia bassissima nella terza catenella della partenza, della maglia di partenza. Ok, ora io da qua mi alzo con 1, 2, 3 catenelle, volto il mio lavoro, così entro direttamente nell'angolo e vado a lavorare di nuovo. 1 e 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, sempre nello stesso angolino, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 1, 3. salto una catenella, salto nell'archetto successivo, di nuovo 1, 2, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, di nuovo nell'archetto successivo il mio angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2, 3. è proprio la classica piastrella granny che abbiamo già lavorato, ho proprio scelto una piastrella che abbiamo già fatto e una piastrella semplice come quella granny perché così viene comodo veramente a tutte, 3 catenelle, sempre nello stesso angolo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 1, 3. Una catenella e vado a chiudermi con una maglia bassissima nella terza catenella a partire dal basso. Ok, vado a misurare quanto misura questo pezzettino, quindi prendo il mio metro, siamo a 6 cm, posso fare un altro giro, quindi vado a lavorare avanti, a lavorare nello stesso modo, quindi mi alzo di nuovo con 3 catenelle, volto il mio lavoro, entro nel primo archetto e vado a lavorare, siccome non è un archetto angolare, vado a lavorare solo 3 maglie alte, una catenella di separazione, vado nell'angolo e lavoro il mio angolo, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e di nuovo 3. Allora, proseguo a lavorare la mia piastrella granny fino ad arrivare a un centimetro in meno, un centimetro, un centimetro anche mezzo, anche due centimetri in meno, della misura che devo raggiungere, cioè se io devo raggiungere i 10 centimetri nel mio caso, andrò a lavorare in questo modo fino a raggiungere gli 8 centimetri. Ora, se sono 8 centimetri e mezzo, non cambia niente, va bene, uguale. L'importante è che non vado a lavorare fino a 10, perché poi sennò non ho la possibilità di fare le mie bordure, quindi io penso che questo sarà il mio ultimo giro. Ora, lavoro tutto il giro e ci vediamo alla chiusura. Ecco qua, io vedete che ho lavorato per 8 centimetri, ora anche se la piastrellina si dovesse smollare, arriva a 8 centimetri e mezzo, ma ci siamo. Allora, adesso ovviamente ho raggiunto la larghezza, ma non ho i miei 25 centimetri di altezza, perché le mie piastrelle comunque sempre 25 centimetri misurano. Quindi cosa faccio? Chiudo il lavoro e adesso posso decidere o di cambiare colore o di mantenere la stessa colorazione. Io per questa volta mantengo la stessa colorazione. Vado in un angolo, entro nella seconda catenella, quindi nella catenella centrale, noi ne abbiamo fatte tre, entriamo nella seconda e andiamo a fermare il giro, il filo, eccomi qua. Mi alzo, rientro nella stessa maglia e mi alzo con una, due e tre catenelle. Sotto abbiamo l'archetto, quindi entro nell'archetto e lavoro altre due maglie alte, una e una due. Una catenella, vado nell'archetto successivo, di nuovo tre maglie alte, una, due e una tre. Una catenella, archetto successivo, una, due e tre. L'archetto successivo è quello della, una catenella, l'archetto successivo è quello dell'angolo. Entro nell'angolo e lavoro due maglie alte. La terza maglia alta vado a farla nella seconda catenella del mio angolo, in modo da fermare il lavoro. così. Ora io non devo andare avanti a lavorare in quadrato, ma devo allungarmi, quindi una, due, io ne faccio sempre due, ma voi decidete, potete anche farne tre se siete comode con tre. Poi una catenella di separazione, mi sposto nell'archetto subito dopo e lavoro il mio granny. Uno, due e una tre. Una catenella, salto nuovamente nell'archetto successivo, di nuovo il mio granny. Uno, due e una tre. Una catenella, salto di nuovo nell'archetto successivo, lavoro il mio granny. Una, due e una tre. Una catenella e l'ultima maglia alta vado a farla nella prima maglia alta del giro sottostante, quindi entro qui e vado a lavorare la mia maglia alta. Uno, due e tre catenelle, volto il lavoro e riparto. Ho il quadratino libero subito sotto, quindi entro e lavoro le mie due maglie alte. catenella, vado nell'archetto successivo, tre maglie alte. Catenella, vado nell'archetto successivo, lavoro due maglie alte e la terza maglia alta vado di nuovo a farla come abbiamo fatto all'inizio, nel primo giro per allungare, nella seconda catenella. Nella seconda catenella perché io faccio le maglie alte da due catenelle, se voi avete fatto la maglia alta di partenza da con tre catenelle, ovviamente nella terza. Eccoci qua. E ora di nuovo riparto, quindi mi alzo di nuovo con due catenelle più una tre, volto il lavoro, entro nell'archetto successivo e riparto col mio granny. Uno, due, tre. E vedete che non vado più avanti ad allargarmi, ma vado ad alzarmi. Ora io lavorerò, posso decidere se lavorare un po' di giri di qua e un po' di giri nella parte sotto per lasciare il fiorellino centrale, che adesso ho fatto monocolore, ma potrei anche avere, potevo farlo anche di più colori e quindi mettere in evidenza la lavorazione, oppure se lasciare questo in basso e proseguire per 24 cm. Sì, 24 cm perché poi dobbiamo fare il giro di maglie alte. Quindi ora io vado avanti a lavorare questa, do la misura e ci vediamo per il giro di maglie alte di rifinitura. Ok, eccomi qua, sono arrivata più o meno a misura. Se vado a prendere il mio lavoro e vado ad inserire il mio pezzo, vedete che più o meno ci siamo. Ora se vado a fare i giri di maglie di maglie basse per rifinire, sono arrivata sia in larghezza che anche in altezza. Ora potete decidere se fare un giro di maglie alte come abbiamo sempre fatto, oppure fare semplicemente dei giri di maglie basse. Questo decidetelo voi a seconda di come vi sembra che vi sia venuto l'inserto. Io vado tranquillamente subito a fare dei giri di maglie basse, quindi prendo il mio filato nero, che è quello che uso per le varie rifiniture, e partiamo dal granny diritto. Entro nella terza catenella. Ok, e vado a fermare il mio filo. Ora vado a lavorare una maglia bassa su ogni maglia sottostante, dei granny sottostante, quindi una. Dove ho l'archetto vado a lavorare una maglia bassa nell'archetto, dopodiché di nuovo una maglia bassa in ogni maglia alta sottostante, e di nuovo una maglia nell'archetto, una maglia bassa nella maglia alta sottostante, una maglia alta bassa nell'archetto, e poi di nuovo. Uno, due. Allora, l'unica cosa, quando arriviamo all'angolo, noi dobbiamo negli angoli lavorare sempre quattro maglie basse, perché poi quando andiamo ad attaccarci alle piastrelle ci troveremo con quattro maglie basse, quindi noi dobbiamo mantenerle quattro maglie basse. Quindi entro nell'ultima maglia sottostante, e nella stessa maglia vado a lavorare quattro maglie basse. Due, tre, e quattro. In questo modo vedrete che farete anche nel frattempo la vostra curva. Ora, su questo lato non abbiamo maglie da lavorare, dobbiamo un pochino inventarcele, quindi io vado a lavorare una maglia bassa dove ho la maglia alta, una maglia bassa nel nodino di congiunzione, qui ho l'archetto, vado a fare una maglia bassa, di nuovo una maglia bassa nel nodino di congiunzione, e vado avanti così per tutto il giro. Vado a lavorare le mie maglie basse creandomi gli spazi, contatele perché quante maglie basse avete da una parte dovrete averle anche dall'altra. Qui poi mi si presenterà il granny, quindi andrò tranquillamente a lavorare il granny, ci vediamo nell'angolo. Eccomi nell'angolo, qua ho già l'angolo perché sono sulla parte granny, vado nel mio archetto da tre catenelle e lavoro quattro maglie basse. Tre, e quattro, semplicemente. E poi riprendo a lavorare. Ora, andiamo a realizzare tutto il giro, ci vediamo alla chiusura. Ora, il mio pannellino da attaccare è pronto, non mi resta altro che con lo stesso metodo con cui ho attaccato le altre piastrelle andare a cucire anche questa. E vedete che ho realizzato il pannello che mi serviva per riempire lo spazio. Ora, questo è un esempio, io ho usato il granny, ho usato un tinta unita, avrei potuto usare l'inizio di qualsiasi piastrella che siano di quelle che abbiamo usato, ma anche di altre, e avrei potuto anche giocare con vari colori. Per semplificarmi la cosa nella spiegazione, ho preferito farvela tinta unita e farvela col granny, che è la cosa più semplice, quella che possiamo fare veramente tutte quante. Si procede così andando ad attaccare in tondo, quindi seguendo tutti e quattro i lati, le nostre piastrelle. Una volta attaccate quasi tutte le piastrelle, stabiliremo poi se ci serviranno delle altre piastrelle per andare a riempire tutto lo spazio della nostra coperta, oppure se siamo giunte a coprire tutta la parte superiore della nostra coperta. Perché poi il contorno dei tre lati, quindi lasciamo perdere la testata, ma il contorno dei tre lati, i due fianchi e i piedi che scenderanno dal letto, andremo a decidere se farli con delle altre piastrelline, però a questo punto una greca tutta uguale che andrà a richiamare un attimino, a dare un certo senso di logica a tutto il colore che abbiamo dato in questa coperta, oppure se andare a lavorare con un punto stabilito tutte insieme, però utilizzando comunque sempre i nostri avanzi che abbiamo a disposizione. Benissimo, spero di essere stata chiara, spero di aver aiutato chi come me si è ritrovata ad avere degli spazi da riempire e spero di essere riuscita a dare un'idea di come andare a riempirli, questo può essere fatto sui 10 centimetri come ho fatto io, ma anche sui 15 o sui 18, su qualsiasi misura. Ci vediamo nelle prossime settimane per andare avanti con le altre piastrelle o con le rifiniture a seconda di dove siamo arrivate. Se siete interessate ad avere più informazioni, io vi ricordo sempre che questo è un progetto che stiamo realizzando nel gruppo di Facebook insieme tra chiacchiere e gomitoli, potete sempre raggiungermi su Facebook e nel gruppo e quindi chiedermi chiarimenti o possiamo parlarne se avete anche altre idee tutte quante insieme. Noi solitamente ci ritroviamo il mercoledì sera in una diretta nel gruppo per poter discutere insieme e procedere insieme con la nostra lavorazione. Bene, non parlo più, al prossimo progetto! Grazie!